Ave, parliamo di Andrea Presti 2021 contro 2022, sempre sul palco dell'Olimpia, piccola precisazione, chiaramente le foto sono prese dal pre-judging, purtroppo Presti non ha fatto le stesse pose nel 2021 e nel 2022, quindi mancano alcune pose che ci sono magari nel 2021 ma non ci sono nel 2022 e viceversa, quindi lavoriamo su quello che ha fatto di uguale. Secondo me il colpo d'occhio del 2022 è superiore perché ha preso più chili, se non sbaglio qualcuno mi aveva detto che in una delle gare che ha fatto quest'estate, se non sbaglio quella in Portogallo che ha vinto, Presti avesse detto di essere più pesante di 4 o 5 chili, quindi ci sono più chili sicuramente, non so se sia una questione di illuminazione o altro, però la definizione del 2021 mi sembra leggermente superiore, si vedono più dettagli nei quadricipiti, soprattutto il quadricipite destro, c'è qualche striatura, il colpo d'occhio è ottimo in entrambi i casi, ma preferisco quello del 2022 perché è più grosso, è più imponente secondo me, poi il posing di Presti è sempre abbastanza buono, c'ha un ottimo V-Taper in entrambi i casi, nel 2021 do qualche punto in più perché sembra più definito, però nel 2022 è più grosso, io credo che avendo gareggiato così tanto quest'anno, la definizione magari sia leggermente inferiore rispetto al 2021. Passando al side chest, che io credo sia la posa migliore di Presti, qui non vedo miglioramenti incredibili se non, come detto, la massa, per fare un'analisi migliore dovremmo vedere due Presti sul palco, uno vicino all'altro, non un collage, come quello che ho fatto io. Mi piace molto il femorale nel 2022, che mi sembra un po' più grosso rispetto al 2021, c'è qualche striatura sul sedere in più, secondo me, poi la densità è ottima. In generale stiamo parlando di un pacchetto molto simile, con l'unica differenza che quest'anno, quest'anno, nel senso, il 2022 si è presentato più grosso, magari a discapito di un po' di definizione. C'è una leggerissima distensione nella parte bassa dell'addome nel 2022, ma non credo che si tratti di distensione, perché Presti non ha di questi problemi in genere, posa molto molto bene. Credo che sia semplicemente un discorso di più massa in generale, e in questo modo si nota un po' di più anche questo aspetto addominale. Back double bicep. Come dicevo, nel 2021 mi sembra più definito, non so se sia una questione di luci o altro, però nel 2022 è sicuramente più grande. Si nota molto di più in video questo discorso della schiena, perché la schiena è migliorata davvero tantissimo. Mi ricordo anche quando era salito sul palco del New York Pro, che è stata la sua prima gara stagionale, avevo notato tantissimo la schiena. È più denso, soprattutto nella parte bassa. C'è stato un miglioramento nella parte bassa della schiena, che in questa foto si nota poco, ma si nota molto nell'hudspread. Mi sembra che i glutei siano più grossi e le gambe in generale siano più grosse. Nel 2022 sembra che abbia più dettagli nella parte bassa che non ci sono nel 2021. Qui vedete quello che dicevo in altri video. Nel 2021 mi pare che le luci fossero troppo accecanti, mentre nel 2022 un po' troppo tenui. Dovrebbero trovare una via di mezzo al Mr. Olympia, secondo me. Però si notano molto anche le braccia più grosse, oltre che i deltoidi che sono sempre abbastanza a cannone per presti. E qui è quello che stavo dicendo prima. Il l'hudspread è molto più raffinato, diciamo. C'è stata come una pulizia di imperfezioni. Vedete che la parte bassa è più prominente, è un po' più densa. Come sempre è molto largo di spalle e in questo caso si notano i miglioramenti della schiena, sia della parte alta che della parte bassa. I glutei mi sono più squadrati, ci sono più dettagli nei femorali. Quindi non so se la definizione fosse inferiore nel 2022 o, come detto, se sia una questione di luci del palco. Però sicuramente è una posa migliorata e credo che l'aspetto migliore di presti nel 2022 sia stato questo miglioramento nella schiena in generale. Poi chiaramente c'è stato un aggigantamento globale del resto del corpo, però soprattutto nella schiena mi piace la densità e il lavoro di pulizia, diciamo, di raffinazione, se posso utilizzare questi termini per parlare della schiena. Passando all'ultima posa, la most muscular. Qui noto, come detto, anche nel front of all bicep, qualche dettaglio in più nei quadricipiti nel 2021 che non ci sono nel 2022, però si nota come le gambe siano più grosse. Se magari c'è qualche dubbio nella parte alta perché non li vediamo sul palco fisicamente insieme perché è impossibile, in questa foto si notano, secondo me, miglioramenti nelle gambe. Comunque una buona posa per presti. Le most muscular vengono un po' così così per chi non ha degli avambracci eccezionali o dei tricipiti eccezionali, cosa in cui presti è un po' carente, però una buona posa. Io credo che presti abbia un po' risentito tutte le gare che ha fatto quest'anno, non so quale sia il suo piano d'azione per il 2023, contando anche che quest'anno o vinci una gara o al Mister Olimpia non ci vai, non che presti avesse bisogno dei punti perché si è qualificato due anni di fila vincendo una gara, però chiaramente rende le cose un po' più complicate per tutti i bodybuilder perché adesso presti dovrà vincere una gara per forza e credo che dovrà anche gareggiare di meno perché è impensabile di gareggiare quanto l'anno scorso sia per lui che per gli altri bodybuilder. Comunque in sostanza io credo che sia un pacchetto migliorato soprattutto per la massa. In generale è sulla schiena e nelle gambe. Chiaramente ha gareggiato talmente tanto che era impensabile a fare dei miglioramenti incredibili in pochi mesi, quindi adesso vedremo un po' cosa combinerà in questa off-season e quando lo rivedremo sul palco. Fatemi sapere che ne pensate. Buona! Grazie a tutti!